Hai risposto a questo annuncio? Ho risposto a questo annuncio perché è il mio lavoro, perché fino a poco tempo fa facevo questo in uno studio legale. Quindi è un lavoro che hai già svolto? Sì, accoglienza clienti, gestione dei dati, archivio, fatturazione, telefono sempre, gestione della cassa. È nel nostro territorio e si tratta di un part-time. Quindi hai il vincolo del part-time? Sì, preferirei un part-time se fosse possibile. La mattina soprattutto? Sì, andate. Quali sono le competenze che potrebbero comunque essere interessanti per l'azienda? Sicuramente la serietà, la puntualità, il rispetto sia per il datore di lavoro che per i colleghi, che per i clienti, la flessibilità e lo spirito di collaborazione. Ok. Allora Fabrizio, non so se ci hai fatto caso anche te, però Tania tende ad abbassare lo sguardo. Lo fa per sbirciare un po' il curriculum oppure secondo te non riesce a tenere gli occhi su guardando la selezionatrice per la troppa emozione? Sì, credo che sia questa seconda ipotesi. C'è un problema di emotività che, come abbiamo detto più volte, è naturale. Però cerchiamo di essere anche noi naturali e quindi anche se diciamo qualcosa che non rientra nel ciò che di preciso volevamo dire, non fa niente. Evitiamo magari di guardare gli appunti perché sarebbe come leggere un copione mentre si recita durante un'effettiva rappresentazione. Quindi bisogna cercare di essere molto più spontanei, ecco. Magari dire anche qualcosa che può sembrare un po' fuori le righe sempre nell'ambito di una sobrietà di rapporto e di linguaggio. Però questo anche consente al selezionatore di avere di noi un'idea più autentica, più vera, no? Se no ci limitiamo a fare, diciamo così, il compitino, anche fatto bene, ma non andiamo oltre. E quindi questo può essere invece un limite che comunque tutto è oggetto di valutazione, no? Eh, ok Fabrizio, però non sta neanche affrontando un quiz televisivo, né un esame, un test. Cioè, almeno permettiamo uno sguardo così per riprendere, magari anche un modo per riprendere un po' il filo del discorso e darsi un po' di sicurezza. Seconda parte del colloquio di Tania, guardiamo. Allora, in questo caso specifico si potrebbe verificare con una situazione anche un po' di criticità, nel senso rispondere al centralino e poi arriva contemporaneamente un fornitore, magari un collega che le fa una domanda. Ecco, come gestisci questo? Io ho già lavorato sotto pressione e non solo una volta. Come dicevo, vengo da uno studio legale dove seguivo quattro legali quasi contemporaneamente, più il telefono, più i clienti. Quindi sotto questo punto di vista sono abbastanza tranquilla, diciamo. Resistente allo stress. Sì, 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 sì. Perfetto. E le sue competenze informatiche, ecco, il livello dove arriva sarebbe in grado appunto di utilizzare questo gestionale, anche se non lo conosce, però ecco, di impararlo in velocità? Sì, nello studio facevo anche la fatturazione elettronica, quindi l'agenda dei legali. Questo non lo specifico non l'ho mai utilizzato, però sono pronta, anzi sono anche curiosa di imparare altro. Stefano, a parte che a me Tania sembra estremamente risoluta, cioè ha gestito uno studio legale, quattro legali contemporaneamente, fatturazione elettronica, ecco, proprio rispetto alle competenze informatiche, come si può dimostrare di fronte a un colloquio che si hanno, ma soprattutto magari che si è in grado di apprendere i nuovi programmi con una media facilità. Sì, sono d'accordo sull'impressione generale che dicevi, cioè ha una domanda astratta come quella sulla resistenza allo stress, Tania risponde con dei fatti dicendo lavoravo per quattro legali contemporaneamente. La stessa cosa si può fare con le competenze informatiche, cioè conosco questo, questo, questo. Per quanto riguarda i gestionali è fisiologico, uno non li può conoscere tutti perché ogni azienda ha il suo, ovviamente, ma aver lavorato con i principali può essere un fatto da presentare con quelli più diffusi, è sicuramente una risposta corretta. Sì, anche perché diversamente dalle lingue, dove se uno dice io conosco l'inglese o il francese, magari il selezionatore lì davanti può fargli una domanda, sull'informatica è più difficile. Tra l'altro proprio di lingue parla la terza e ultima parte del colloquio. Guardiamo. Ok, l'azienda non ha chiesto delle competenze linguistiche specifiche, però ha detto, beh, se la candidata o il candidato conoscesse la lingua inglese sarebbe meglio, perché i fornitori sono quasi tutti italiani, però può capitare, eventualmente questo potrebbe essere un problema, ha competenze linguistiche rilevanti? Allora, io ho fatto un istituto di ragioneria dove ho fatto l'inglese e il francese commerciale. Ha problemi a lavorare con un gruppo di persone, a gestire? Non ho mai riscontrato questo tipo di problemi. Ok, è sempre stata comunque tranquilla. Molto bene. Grazie.